Sì, sono Massimo Aramello, uno dei responsabili delle guardie ecologiche volontarie della città metropolitana di Torino. Il mio intervento oggi è quello semplicemente di informare quali sono le attività che vengono svolte dalle guardie ecologiche volontarie e qual è l'impegno che le stesse mettono a disposizione per la collettività. Le guardie ecologiche volontarie, come dice la parola, sono delle guardie volontarie, siamo circa 200 unità, svolgiamo un'attività di informazione e prevenzione delle problematiche di carattere ambientale, oltre ad un'attività di repressione e controllo del territorio. Tutte queste attività vengono svolte a puro titolo di volontariato da queste 200 guardie che si tornano, diciamo così, servizi settimanali e mensili. Nell'arco dell'anno le guardie devono svolgere 15 servizi obbligatori, ma chiaramente i servizi sono sempre molto di più. Svolgiamo attività sia nei parchi cittadini, sia nelle aree rurali, sia nelle aree montane, nelle aree collinari, con la finalità di poter tutelare al massimo tutto l'ambiente, la conservazione del patrimonio ambientale.